Allora iniziamo questa nostra trasmissione del 17 novembre, venerdì, benvenuto al senatore onorevole Giuseppe Compagnone, io ci metto tutti e due, poi decidiamo cosa fare in questo momento, è così, tanto congratulazione per il risultato, ricordo il senatore Giuseppe Compagnone, è stato candidato all'Assemblea regionale siciliana, la lista non me la ricordo Giuseppe, popolare e autonomisti per la Sicilia, è stato eletto all'Assemblea regionale siciliana con una bella affermazione, diciamo che solo nella sua città di Gran Michele ha raccolto qualcosa come circa 1.300, poco meno di 1.300 voti, che non sono pochi, anche su Cannes, Altagirone, circa 600 voti, sono un buon risultato, questo per dire lo spazio, l'habitat personale familiare, per poi questo voto invece si è riverberato in tutta la provincia di Catania con buone performance anche a Catania città. Una prima analisi di questo risultato personale dopo cinque anni quasi di consumata legislatura sugli scanni di Palazzo Madama? Ma intanto un buon risultato in considerazione di quello che è avvenuto, io per la verità devo essere sincero, io come tu sai sono sempre molto sincero di quelle cose che penso, quindi al di là delle… Questa è una caratteristica buona, poco politica, però buona. Io mi vanto di essere un politico anomalo, sì non mi piace parlare politica, è fare la classica manfrina politica, io mi aspettavo per la verità da 6.000 voti in su e ne ho preso quasi 6.000, 5.650, quasi 5.600. Che non sono pochi. Che non sono pochi perché da… Certo, raffrontate ai 32.000 sono un'inezia diciamo, ma altro discorso. Altro ambito diverso. Altri parametri diciamo. Io ho fatto una campagna elettorale in appena tre mesi, in appena tre settimane, quindi sono stato forse tra gli ultimi a partire. Ricordo perfettamente. Con mezzi molto modesti, senza grandi cose. Pensa che poi a Granmichelle, per la verità, quasi non ho fatto campagna elettorale, perché in realtà avevo deciso di concentrarmi sulla mia città e anche su Caltaginone l'ultima settimana, ma in realtà l'ultima settimana, ahimè, era la settimana dei morti, per cui francamente non è che si potesse andare a fare campagna elettorale. Ho fatto la giornata in famiglia, come si usa sempre, per cui voglio dire non è che io abbia fatto una campagna elettorale molto stretta. Mi sono affidato molto a tanti amici che mi hanno aiutato e voluto bene e a un clima, grazie a Dio, che si è verificato nei miei confronti, positivo un po' dappertutto. grazie probabilmente a dei comportamenti, a una vita spesa sempre in modo, serenamente al servizio degli altri, sia da medico che da politico. E credo che poi alla fine, come sempre avviene nella vita, si viene premiato, credo che la coerenza, si raccolgono i frutti, senza grandi mezzi, senza grande, alla fine abbiamo il risultato questo. E di questo sono qui oggi a ringraziare le persone che ci hanno creduto, soprattutto intanto tutti quegli amici, quelle persone che hanno creduto in questa mia candidatura, molti l'hanno voluta. Io mi sono trovato candidato perché è stato come dire voluto dei miei amici, degli amici del Callatino che hanno voluto che mi candidassi per dare un segnale di presenza in questo momento così grave per la Sicilia e soprattutto per il nostro territorio, hanno voluto che io mettesse a disposizione la mia esperienza, la mia persona, ci mettessi la faccia in questa elezione. E così ho fatto, l'ho fatto con tanto senso del dovere, non tanto per la ricerca della poltrona come spesso si è immaginate a pensare, l'ho fatto con proprio il senso della responsabilità di prendermi, di caricarmi un problema che è quello della gestione della regione siciliana, che non solo sulle mie spalle chiaramente, però voglio dire di partecipare alla gestione della regione siciliana rappresentando questo territorio. Tant'è vero che sono scarse le possibilità per un Callatino di arrivare all'Arso, soprattutto da quando si sono diminuiti i deputati da 90 a 70 del ricordo, per cui siccome la massa degli voti avviene nella grande città che è Catania, è chiaro che per un Callatino diventa difficilissimo essere eletto. Tant'è vero che gli unici Callatini ad essere eletti, a parte quello di 5 Stelle, sull'onda della cosa di 5 Stelle, però di fatto i voti strutturati della politica sono quelli di Marco Falcone i miei. Marco Falcone veniva da due legislature all'Arso, è stato capogruppo di Forza Italia, è comunque un uomo che fa politica tanti anni sul territorio e quindi solo per questo ha raggiunto questo straordinario risultato. E poi il mio caso, ma è chiaro che è difficile per un Callatino essere eletto ed è stata una fortuna, è stata una cosa positiva credo per il nostro territorio. Io in qualche modo lo sapevo, ero cosciente di questo, senza grande presunzione, però ero cosciente di potercela fare seriamente e quindi abbiamo fatto questa scommessa, è un fatto credo positivo per il nostro territorio, perché io credo che questa volta, al di là del, a maggior ragione nel disastro in cui siamo, per il momento gravissimo che stiamo attraversando, io vorrei ricordare che noi, la Sicilia in questi anni ha perso qualcosa come 60.000 giovani e siamo a un prodotto interno lordo che è un terzo di quello che avviene in Veneto o in Lombardia. Abbiamo molto da recuperare. La situazione economica siciliana in questo momento è gravissima, non solo economica ma anche sociale, perché questo fatto del non vuoto, del voto di protesta è chiaro che è indice di una grave situazione sociale, sociale, oltre che economica, è anche economica ma è anche sociale, è anche di crisi di valori, di riferimento, di fiducia nella politica, di fiducia nell'istituzione, quindi è una situazione molto grave quando un popolo comincia a non credere nelle istituzioni. Un momento così drammatico, così serio e di situazioni drammatiche nella regione siciliana, io proprio oggi mi sono sentito, ma ieri ci eravamo visti tra l'altro per poche battute con il vicepresidente impeccatore della regione siciliana che sarà l'avvocato Ormao e mi ha brevemente descritto un po' la situazione, mi ha detto che lui sta facendo un'operazione verità sui conti della regione siciliana, mi ha detto che è veramente drammatica, è veramente grave la situazione e quindi credo ci sarà bisogno veramente di fare un buon lavoro, soprattutto più che politica bisognerà fare buona amministrazione, come dico io, tanta buona amministrazione, c'è bisogno che tutti se ne rendano conto, c'è bisogno che se ne rendano conto intanto i parlamentari, i deputati, il Presidente della regione, penso che già lo sappia, ma anche i cittadini devono partecipare, devono capire che la situazione è drammatica, è grave e quindi bisognerà come dire che tutti ci si rimbocchiamo in modo molto serio per riprendere un attimino e risollevare la Sicilia, perché non è consentibile più, quando da una terra scappano tutti questi giovani siamo al disastro sociale, questo credo non possiamo consentirlo, dobbiamo fare di tutto perché si fermi questa emorregia. Cosa fare? Certamente c'è bisogno di mettere su una buona politica e penso che è quello che si sta facendo, del resto la presenza di musumeci che uno è navigato per dire che uno che conosce il mestiere dell'amministrazione ed è anche molto rigoroso, molto serio, questo credo sia un fatto assolutamente positivo e ci fa augurare e ben sperare, fatto che ci siano come dicevo io all'inizio, prima delle elezioni, se ti ricordi, dicevo anche queste cose e non le rinnego, la presenza poi di personaggi autorevoli come può essere da una parte, la galla e l'ex rettore dell'università e dall'altro il vicepresidente di questo punto all'avvocato Gaetano Armau sono fatti di grande rilevanza perché sono personalità che hanno conoscenza dell'amministrazione, capacità amministrativa, un'allevatura politica e un'autorevolezza politica che chiaramente rafforza questo governo. Speriamo che si facciano dei buoni assessori, noi saremo presenti, seguiremo nel miglior modo possibile il nostro territorio. Spero che si faccia tanta buona amministrazione e non ci si lasci prendere dalle diatribe della politica, spero che anche l'informazione svolga il suo ruolo in modo positivo. Io sono sempre allarmato, te l'ho detto tante volte, lo dico un po' dappertutto, credo che anche la stampa, anche la televisione, l'informazione in generale debba sentire il dovere di fare buona informazione, che non è l'informazione che si ferma alla superficialità delle cose, al gossip, alle chiacchiere di bottega, ma che crei invece informazione reale, che faccia capire ai cittadini quali sono i problemi veri della Sicilia e come questi si possono risolvere in modo scientifico, in modo compiuto, in modo serio e non lasciandosi prendere invece dalle chiacchiere come spesso noi ci lasciamo andare a queste cose che sanno più di gossip che è di informazione vera, scientifica, con le cose studiate e approfondite. Io spero che ci sia questo buon senso pervada tutti, tutti gli attori, che sono prima di tutto il personale politico, ma poi anche l'informazione, che è una cosa molto importante, che è il di unione tra la politica e la gente, e gli stessi cittadini che devono capire di che cosa stiamo parlando, capire che non c'è nessuno che ha la bacchetta magica, capire che non è che con la strafottenza o col disinteresse che si risolvono le cose, ma quando ognuno fa il proprio dovere, comprendendo le cose, facendo tutti, come dire, nel nostro piccolo ognuno la propria parte. Per quanto mi riguarda questi voti che la gente mi ha dato, partendo appunto, come dicevo, da una campagna elettorale fatta in modo molto onesto, molto semplice, molto senza grandi sovrastrutture, che mi riempie però di orgoglio, perché è chiaro che è tutta una lezione legata alla mia persona, alla mia faccia, alla mia storia, ai miei amici, a quello che io rappresento. Mi carica di una grande responsabilità. Io dai giorni che ci penso, stamattina sono stato anche nel mio comune a parlare con gli uffici, ho parlato con mio sindaco, mi ho scambiato due chiacchiere, ma ci vedremo domani con Gino Iopolo, per cercare già subito di vedere come raccordarci per fare buona amministrazione. Credo che ci siano le possibilità perché ciò si possa realizzare. Abbiamo le competenze, se riusciamo a far ingrare il meccanismo e a mettere in relazione la regione siciliana con la deputazione locale, con i sindaci, con l'amministrazione locale, con gli amministrativi, con i funzionari, riusciamo tutti a fare squadra. Io penso che possiamo portare grandi finanziamenti, creare sviluppo, dare sollievo alla nostra agricoltura, cercare di investire sul turismo, quelle cose che possono fare da traino allo sviluppo economico. E soprattutto con un occhio attento a questi due capisaldi, sicuramente l'agricoltura e il turismo. E poi tutta quella area delle imprese, come dico soprattutto, delle piccole imprese legate molto al mondo dell'agricoltura, ma si può molto lavorare sul mondo del riciclo, del ruso, eccetera, eccetera, per creare sviluppo nel nostro territorio. Perché alla disoccupazione giovanile tu non dai risposta con piccole azioni spot, ma dai risposta se fai crescere l'economia, se metti le aziende in condizione di potersi sviluppare e assumere giovani. Allora a quel punto crea sviluppo. E le possibilità ci sono. Io in questa campagna elettorale ho visto delle cose interessantissime, per esempio, non lo so, non tutti sanno che nella nostra area industriale del Calatina c'è un gruppetto di persone che fanno aeroplani. Come no? No? Ma c'è l'industria, questa qua, dell'Alfa che produce questa produzione, Plastic Alpha, con tanti impiegati, tanti operai che stanno lavorando, mi diceva il titolare, lavorano anche in Marocco, fuori... Circa più di 80 paesi. Diciamo che è l'azienda leader. È un'azienda leader, ma ci possono essere tante aziende e tante occasioni per poter crescere, ma leggevo, c'è un bel articolo su Panorama, mi fa una fotografia a proposito del Ragusano, su tutta una serie di imprese, per esempio, che stanno crescendo e che sono sempre, come dicevo io, di trasformazione agricola, per esempio l'utilizzazione del cioccolato, oppure per esempio quelle che producono i succhi tipo la... non si può fare pubblicità, però che producono bevande qua a Modica, per esempio. C'è tante... la possibilità che... la cosa interessante è che molti giovani e molti giovani agricoltori si stanno avvicinando all'agricoltura e alla possibilità di trasformazione e dell'impresa agricola, cambiando quello che era il mondo dell'agricoltura da semplice coltivatore a imprenditore agricolo, che è una cosa, un pizzichino è diverso e che è quello che ci può dare una possibilità di sviluppo. Una di queste aziende, per esempio un'azienda, leggevo, che partendo dal carrubbo e quindi dalle carrubbe, produce materia che poi viene utilizzata in tutta, nella farmaceutica e fornisce, manda questo prodotto nel mondo intero, partendo dalla Sicilia. Quindi non è detto che siamo tagliati fuori, possiamo... abbiamo le basi partendo dalle nostre... dalle cose nostre buone che saranno le nostre olive o come la nostra uva o le nostre aranci o il carrubbo o il pistacchio, possiamo creare, possiamo dare un impulso nuovo alla nostra agricoltura e all'industria legata alla nostra agricoltura. Tutto questo può creare sviluppo. Dobbiamo avere le idee chiare, fare, come dire, intanto dei progetti anche a lungo termine, perché non è pensabile queste cose, tu le risolvi in poco tempo, però deve intanto pensarci e innescare tutti quei meccanismi che possono servire a farlo. Ma per esempio c'è una grande possibilità, noi come area interna ci sono dei grossi finanziamenti a cui possiamo attingere mettendo in rete i comuni. Io già ho telefonato stamattina al direttore dell'ufficio tecnico vostro qua di Caltagirone, la stessa cosa ho fatto con l'ufficio di Granmichela. Io penso che mettendo attorno a un tavolo i sindaci e gli uffici si può programmare una progettualità del territorio e a quel punto il nostro compito, io ce l'ho chiarissimo, il nostro compito sarà quello di facilitare la predisposizione di progetti che possono portare a finanziamenti comunitari qua e quindi far arrivare denaro dalla comunità europea in questo territorio e creare e innescare il meccanismo del lavoro. Questo è quello che io mi auguro se possa riuscire a fare. Ci metterò come ho sempre fatto nella mia vita tanta buona volontà e tanta determinazione sperando di avere ottimi risultati. Io credo al di là di ogni aspettativa il risultato rappresenta adesso campanaristicamente, mi sembra banalizzare anche il discorso che è stato fatto dal senatore Giuseppe Compagnone, però lo voglio campanellisticamente sottolineare. Alla vigilia non eravamo molto convinti di poter avere una rappresentanza di questa città, men che mai del territorio. Invece se ci pensiamo bene il Calatino ha tre autorevoli, quattro autorevoli rappresentanti, se ci mettiamo quello del Movimento 5 Stelle, nella persona del senatore Giuseppe Compagnone, nella persona dell'onorevole Marco Falcone e poi autorevolmente anche il Presidente Nellumusumeci, non dimentichiamo che è Calatino Doc, di Militello. Quattro rappresentanti di questo territorio su 70 campanellisticamente è una grande possibilità. Poi parliamo di tre che fanno parte all'area di maggioranza, diciamo. Questo potrebbe anche farci sperare, ripeto, il discorso è molto stupido, riduttivo, parlare del campanile, però in questo momento può anche servire a valorizzare, a sperare molto su queste rappresentanze che indubbiamente possono avere a cuore. Speriamo che questa volta lo fanno, al di là dei trascorsi che non sono innoverabili col senatore Compagnone, ma così la battuta mi è scappata, quindi nessuno me ne voglia, però spero tanto che si lavori effettivamente per questo territorio nell'utilizzare anche i ruoli istituzionali, non dimenticando che l'Humus, questo territorio, ha ben contribuito alle elezioni di queste persone. Va bene, senatore, senatore onorevole, Ubi Maio, senatore della Repubblica, neodeputato, quanto sarà? L'ufficializzazione dovrebbe essere a ora? Credo intorno a metà dicembre. Tutta questa polemica, i certificati, la Severino, è un po' di casotto, giusto? Pare che parecchi deputati, soprattutto credo di 5 Stelle, mi dicono, non vorrei dire sciocchezze, abbiano saltato o messo, o dimenticato la presentazione di questa documentazione ai fini della Severino. Io poi di tutti questi meccanismi sono un po'... Alla fine penso che, voglio dire, la gente ha votato e credo che il voto sia... Poi, per carità, ci sono le regole poi, no? Se qualcuno ha... se questo può inviciare la elezione di qualcuno, voglio dire, ci sarà chi deciderà questo, per quanto mi riguarda... Quindi c'è grande attesa, diciamo. Io, tra l'altro, tra i primi, avendo, essendo... ecco l'esperienza, essendo un senatore e avendo vissuto al Senato tutto questo meccanismo della Severino, eccetera, eccetera, quando si parlò di proposito Berlusconi e quant'altro, mi sono preoccupato di verificare che la mia documentazione fosse a posto e credo che sia a posto, per cui io non dovrei avere problemi, però vedremo quello che succede. Va bene, grazie al Senatore Giuseppe Compagnone, congratulazioni ancora. Ci vediamo alla prossima. Grazie a voi e alla prossima. Buona serata, grazie. Pausa pubblicitaria, torniamo subito dopo in diretta. Grazie a tutti.